Ben ritrovati anche per la pagina sportiva del TG, noi capriamo con il calcio, allenamento al Porta Elisa per la Lucchese, sabato arriva la Carrarese, partita delicatissima e probabilmente decisiva per i rossoneri per accedere ai play-off. Una giornata uggiosa che più che fine aprile pare metà novembre, invece no, siamo davvero l'epilogo di un campionato davvero strano e ricco di insidi e di mille difficoltà per la Lucchese, avversità non solo tecniche ma dovute anche a tutto ciò che è successo fuori dal campo, dietro la scrivania. Lopez è arrivato esattamente da un mese, ha fatto di necessità virtù, con un bilancio senza dubbio positivo, cinque partite, due vittorie, due pareggi e una sconfitta, quella di sabato scorso, sul campo della capolista cremonese, ovvero i rossoneri non hanno affatto sfigurato, anzi. Ecco la buona prova fornita all'Ozzini, arriva dito la ritrovata fiducia e la convinzione di un gruppo che crede fino in fondo nella possibilità di accedere a playoff, che visto l'andazzo sarebbe moneta suonante. Ci crede e ci ha sempre creduto anche Lopez, consapevole com'è che la gara di sabato al Porta Elisa contro la Carrarese può essere decisiva. Una gara decisiva perché mancano due giornate, per cui non si può dire il contrario. Come al solito ci giocheremo per vincere, in una situazione abbastanza difficile, già giocatori contati, in più abbiamo tre infortunati che probabilmente recuperiamo ma che non possiamo utilizzare dall'inizio. Però questa squadra ci ha dimostrato più volte che nelle difficoltà riesce a tirare fuori tutto quello che può e sicuramente lo farà anche sabato. Di solito squadra che vince non si tocca, ma anche squadra che perde potremmo aggiungere non si cambia. In effetti, volente o nolente, Lopez deve mandare in campo uomini al 100% della condizione psicofisica e non può permettersi i cambi forzati vista la ristrettezza della Rosa. Ecco perché contro i gialloblu Cararesi di Fiericano, la Lucchese sarà la stessa di Cremona. Cecchini e Maini sono recuperati ma partiranno dalla panchina dove si spera di portare anche Merlonghi. Per il resto, fiducia ai soliti noti, con la speranza che la strana coppia, Fanucchi e Defeo, possa confezionare assist e gol per un traguardo chiamato playoff. Sabato, tutti in campo alle 16.30 e orecchio alle radioline, soprattutto dal Garilli, per il risultato di Pro Piacenza Tutto Cuoio. Vediamo i provvedimenti del giudice sportivo nel girone A di Lega Pro con due giornate di squalifica calabrese del Racing Club. Per una giornata sono stati fermati Ricci Olbia per Greffi e Togurdo del Piacenza, Caciagli Tutto Cuoio, Moscardelli Arezzo, Nossa Como, Battistini della Carrarese, Bonalumio, Chiree del Gian Erminio, Belotti e Calandra del Pro Piacenza, Anghileri del Renate, nella Lucchese sono in diffida Merlonghi e Dermacu. Il sogno playoff della Genova Centro Mini Basket Lucca, siamo al basket, si è interrotto al Palamacchia di Livorno. I lucchesi di Coccia e Piazza infatti non sono riusciti a vincere gara 2, sono stati battuti 63 a 53 dalla Libertas Livorno e si congedano dunque da una stagione che peraltro è stata molto positiva con soli quattro senior e la valorizzazione di diversi giovani del settore giovanile. Si è svolta a Monte Carlo la seconda prova dello challenge allievi Lucca Versilia 2017 di ciclismo, oltre un centinaio, 101 i corridori al via di una corsa selettiva impegnativa, la vittoria è andata a Federico Arioli, vediamo appunto la fase del suo successo della Molinello Servetto che ha conquistato anche la maglia gialla di leader nella classifica generale dello challenge. Le prossime due prove sono fissate il 2 giugno a Pozzi di Seravezza e il 20 agosto a Piano di Momio. Siamo in motorio, a consueto punto settimanale, la tragedia che ha colpito la 101esima edizione della Targa Florio, una classifica molto parziale che consente peraltro a Paolo Andreucci di allungare ancora nella classifica del CIR. Eccolo l'equipaggio numero 29 alla partenza della 101esima edizione della Targa Florio, Mauro e Gemma Mendolia su BMW Mini Cooper della Messina Racing Team. Da lì a poco, durante la prova speciale 3 di Piano Battaglia, il drammatico incidente che costerà la vita a Mauro Mendolia e al commissario di gara Giuseppe Laganà. E con la figlia del povero Mauro, Gemma, ancora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale. Gara naturalmente sospesa e annullata, fino a quel punto la corsa aveva confermato la superiorità di Paolo Andreucci e Anna Andreussi e di una Peugeot 208 R5 tornata agli antichi splendori, più che mai competitiva. In effetti, il campione Garfagnino aveva già rifilato secondi preziosi e pesanti ai suoi due grandi rivali nella corsa al titolo tricolore. Simone Campedelli con la Ford Fiesta del Team Orange accusava un ritardo di 11 secondi, mentre Umberto Scando, l'alfiere della Scoda Favia, era a 12 secondi dal popolare Ucci. E questo è stato anche l'ordine di arrivo, con relativa assegnazione di punti, deciso in base a quella che era appunto la classifica al momento del drammatico incidente sul detto. Da segnalare per i colori lucchesi, il quindicesimo posto assoluto di Nicola e Giasmin Manfredi, il ventunesimo di Mattia Vita e Nicola Gonnella, il ventiduesimo di Stefano Martinelli e Pietro Brugiati, che consolidano la leadership nel trofeo Suzuki. Nella classifica assoluta invece Paolo Andreucci guida quando ci abbiamo a metà stagione con 33,5 punti, seguono Campedelli a 22,5, Scandola a 420 e Perico assente alla Targa Florio con 18 punti. Archiviata questa pagina amarissima e dolorosa, ora il circuito del CIR si concede un paio di settimane di doverosa sosta, si tornerà a gareggiare dal 12 al 14 maggio con la 24esima edizione del rally dell'Adriatico, prima prova su terra. Una sorta di ripartenza per capire se Ucci può chiudere il discorso oppure se dovrà rintuzzare ancora gli attacchi dei suoi baldanzosi e validi avversari. La palla a volo, l'under 18 della Nottolini-Capanno ritorna battuta 3 a 2 dalla trasferta sul campo del Ponte Medicio. Nella gara di andata del quarto di finale valida per il titolo regionale, una sconfitta di misura che fa ben sperare in vista del match di ritorno in programma mercoledì prossimo 3 maggio alle ore 21 al Palapiaggia di Capannori. Risultati altalenati per il batti e cori lucchese e per le nuove Pantere Lucca, tutte sconfitte le squadre che erano impegnate fuori casa a cominciare dalla squadra di Serie B di baseball battuta 11 a 4 e 6 a 0 dal poviglio Reggio Emilia. Unica eccezione, vediamo la foto appunto di questa squadra, la formazione della Serie B di softball che si afferma in gara 2 nel doppio incontro sul diamante del Crocetta Kids di Parma. Da sottolineare anche le buone prove degli under 15 che hanno affrontato a testa alta i lancer di la Strasigna che si sono imposti 16 a 14. 130 società partecipanti da tutta Italia per la Coppa Italia a Montecatini Terme di Karate, specialità Catà e Kumite. Nella specialità Catà la società lucchese del CAM Lucca San Filippo ha dimostrato tutto il suo valore classificandosi al secondo posto per il secondo anno consecutivo, ma anche nel Kumite sono arrivate le vittorie nei chilogrammi meno 61 con Leonardo Bertuccelli e nel meno 47 chilogrammi femminile di Melissa Bonino. Con il Karate si chiude la pagina sportiva, una breve pausa e torniamo subito dopo con la terza ed ultima parte del TG Noi.